Sicuramente c'è stata un po' di illusione, è normale, però bisogna andare avanti perché il campionato non è finito qui. Abbiamo perso una partita, forse anche le speranze della promozione diretta, anche se ancora non è detto, però non facciamo drammi e pensiamo a finire il campionato al meglio. Sicuramente loro ci hanno messo in difficoltà, ci hanno levato le nostre certezze. Infatti non riuscivamo a tenere palla, non riuscivamo a fare il nostro consueto possesso palla e iniziare bene l'azione, quindi questo ci ha messo un po' in difficoltà. Sicuramente loro ci hanno messo più cattiveria, si è visto chiaramente, arrivano prima sulle palle, quindi ripartivano sempre, ci schiacciavano e quindi siamo andati in grosse difficoltà. Sicuramente in caso di playoff incontreremo piazze come quella di Torino, che è molto calda e molto numerosa, e quindi sicuramente anche durante il campionato abbiamo giocato a Verona e Pescara, che sono piazze importanti e non credo ci condizionino. Quella di Torino è stata una partita così, è andata male, ma non credo sia stato per quello. Siamo un gruppo di ragazzi che ha voglia, quindi non credo che una sconfitta ci butti giù, come è successo già in passato, alcuni hanno detto che sta solo in crisi dopo qualche sconfitto, ma abbiamo dimostrato che non è così. Abbiamo dimostrato sul campo, nei risultati, quindi cerchiamo di farlo anche in questa occasione. Sarà un'emozione particolare, non so cosa proverò, perché essendo cresciuto lì, fin da piccolo ho vestito quella maglia, sono cresciuto insieme alla società, insieme a tutta la struttura, quindi sicuramente sarà un'emozione particolare, poi giocherò contro amici, compagni con cui sono cresciuto, nel settore giovanile e non, non lo so, non mi è mai capitato, quindi sarà bello, penso.